ero un po indeciso oggi se fare questo video o no anche perchè ultimamente come dicevo volevo fare più delle piccole mini guide o almeno dove spiegavo qualcosa per dare un senso al video però visto l'occasione che è uscito questo personaggio che è molto atteso da tantissime persone cioè Evil Saga non so se lo conoscete tutti ma lo andiamo a vedere anche perchè è uscito oggi o ieri non mi ricordo io ancora non l'ho mai provato lo conosco un po per i video che ho già visto un po in giro per i vari pvp perchè seguo un po anche video più internazionali diciamo dove già sono usciti tantissimi pg che ora infatti accennerò e anche però poi mi sono lasciato convincere ho detto va bene andiamo a vedere un pochettino magari può essere carino il fatto di andare a vedere un attimo che tipo di pg è e dare anche un parere magari c'è qualcuno per ora che non sa se è meglio oppure no andarlo a pullare andiamolo un attimo a vedere intanto che tipo di pg è Evil Saga tanto per dire subito di cosa si tratta Evil Saga è un pg prettamente da pvp quindi chi per il momento non fa pvp può anche evitarselo andando a risparmiare le gemme lo dico subito perchè è un pg da pvp intanto andiamo a vedere i suoi punti che assegnano ha un attacco 5 che non so per capire questo voto perchè fa un male della madonna questo pg ma ora andiamo a vedere meglio come abilità 8 perchè praticamente si sono tutta forza delle sue abilità forse per questo senso intendono comunque fa tanto tanto male e sopravvivenza 4 perchè è un pg che tende a morire perchè in generale utilizza la sua vita per andare a effettuare i suoi attacchi come vediamo ha un costo 0 quindi lui non usa tendenzialmente tutte le sue passive cioè tutte le sue skill sono delle skill passive le ultime 3 la prima quella sua di base di attacco base già parte da un 120% di danno fisico stranamente perchè saga è danno cosmico invece questo non so perchè sia danno fisico praticamente questo sarebbe il gemini che si lascia diciamo invadere dalle forze maligne quindi diciamo è una specie di berserk impazzito dove non ragiona e questo è il suo punto debole diciamo nel senso questo pg attacca ve lo spiego un po' così superficialmente perchè le skill sono molto complesse come vedete guardate che descrizioni che abbiamo per ogni skill quindi diciamo vi faccio un riassunto veloce poi lo andiamo a provare anche due secondi questo pg praticamente attacca anche il vostro team si avete capito bene è l'unico pg credo attualmente si che attacca il nostro stesso team perchè lui va a percuotere di mazzate sui denti tutti quei pg che hanno utilizzato più punti azione quindi quando tocca a lui il pg che ha utilizzato più punti azione lui lo percuote può anche killarlo perchè fa molto male quindi già vi intuite che non può essere utilizzato ad esempio voi dovete fare delle formazioni adatte per lui la skill che riguarda questo discorso vediamo se è questo ok il massacro a sangue freddo massacra chiunque si trovi sul suo cammino il primo nemico che consuma un'energia il primo alleato che consuma un'energia risvegliano l'istinto omicida di Gemini fa ridere questa cosa dopo aver agito Gemini attacca tre volte consumando un'energia quindi lui utilizza le energie per fare le azioni se l'energia in quel momento non ne abbiamo lui perde la sua vita attacca lo stesso ma perde la sua vita fino a un certo punto comunque se ha la vita troppo bassa lui non attacca mi sembra il 25% di vita se il bersaglio non muore Gemini perde il controllo e sfera un'altra serie di attacchi quindi lo percuote più e più volte senza spendere energia se il bersaglio è bandito ha in aria come magari si può trovare in aria Pegasus Cloth Divina e quindi se Pegasus non lo può colpire o non è sul campo Gemini attacca un altro quindi comunque uccide qualcuno all'inizio come skill di base fa tre attacchi si attiva quando un alleato usa un'abilità dal costo di energia maggiore di uno quindi praticamente tutti tranne Milo quindi se voi fate una squadra dovete mettere personaggi che non consumano energia altrimenti lui li va a massacrare di botte i vostri stessi PG quindi anche per questo è un PG che va bene solo per i PvP che voi potete usare per affrontare dei nemici ad alto consumo energetico quindi lui è buono se è il nemico ha Libra se ha Iolos che consumano quattro gem quindi presente li va a ammazzare appena si muovono o anche PG di che usano tre gem ed è molto inutile da schierare contro un boss in PvE perché il boss non usa gem quindi lui praticamente tutta la sua rabbia la sfogherà verso il nostro stesso team è una cosa assurda è una cosa del genere quindi è un personaggio molto difficile da utilizzare bisogna creare un team adatto a lui bisogna stare attenti quando utilizzarlo perché si può ritorcere contro noi stessi tra l'altro va pure a bandire presto disponibile che è sto nome fantastico presto disponibile ok vincola il nostro stesso alleato abbiamo delle skill che dobbiamo per forza far salire di livello perché se no nemmeno possiamo giocare per esempio questa skill attacca chiunque consumi troppa energia siamo sempre lì alla fine del turno Gemini scatena il suo istinto omicida contro l'unità che ha usato più energia a parte se stesso e ci mancherebbe direi se si tratta di un nemico lo attacca tre volte infliggendo 160% di danno fisico a ogni attacco quindi porca miseria fa male se si tratta di un alleato semplicemente lo vincola per tre turni cioè vi blocca i vostri giocatori è assurdo non è non è accettabile una cosa del genere a livello 1 quindi per arrivare a vincola l'alleato solo per un turno direi che è una skill da portare almeno a 5 perché altrimenti oppure comunque dovete creare un team adatto a lui per non farvi uccidere da soli praticamente quindi morale della favola bene o male vi ho detto la sua utilità prettamente pvp e in pochissimi casi di pve poi per carità in pve potete pure utilizzarlo vi fate il team adatto però è rischioso da andare a utilizzare io l'avrei pure ce lo andrei pure a provare come sapete tutti i pg anche quelli che voi ancora non avete possiamo provarli leggendario mi sa che si trova qui infatti io ancora non ce l'ho quindi ovviamente i legami non c'è bisogno di dirgli penso che tutti li conosciamo ogni giocatore ha dei legami particolari con altri giocatori che se li mettiamo insieme nella stessa squadra vanno ad aumentare la loro forza lui è in entra in combo con l'edisa bel micene micene sagittario aiolos oppure con shin shin sarebbe shion forse shion e il sacerdote ade e nettuno ad averceli va benissimo andando a cliccare qua su commenta poi su cosmo lui ci dice un pochettino i cosmi il classico consiglio sui cosmi vediamo dov'era qua lui ci suggerisce un team da poter utilizzare infatti radavanti non usa gem jamian non ne usa è l'unico healer attualmente mi sembra che non usa i gem però già lei ne usa uno quindi se non schillate andiamola a provare anzi qua ci dà una descrizione di questa formazione chi genera energia per gemini malvagio perché comunque dobbiamo generarla perché lui comunque la usa l'energia altrimenti muore da solo come un cretino ne messi sabella e damien proteggono i due picchiatori principali gemini malvagio genera energia per radamante gemini malvagio genera energia per radamante con i suoi colpi critici ah ok perché lui facendo i critici aumenta la skill di radamante che ha bisogno dei critici danni critici questa formazione da fine partita non si affida alla velocità questa formazione per il pve è un 4 stelle per il pvp pure quindi diciamo lui ci fa una formazione che bene o male è utilizzabile per un po' qua e un po' là quindi diciamo non è ottima per nessuno delle due cose secondo me diciamo tanto per tanto per pruvè però ora che ci penso questa prova che loro ci mettono in campo sicuramente non ci permetterà di capire il reale funzionamento di di evil saga perché in questa prova lui ci mette in questa prova noi siamo immortali come sappiamo lui ci mette contro dei nemici che non utilizzano punti skill quindi vediamo intanto il fantasmino che alezza qua nell'aria perché lui aspetta che qualcuno utilizzi una skill quindi Kiki non consuma energia e resta tranquillo appena io con un personaggio utilizzo già un punto mettiamo per esempio l'invulnerabilità qua l'immortalità a evil saga e Isabelle è la prima che usa una skill vedete che il fantasmino gli va addosso poi io ne uso un'altra con Jun quindi il fantasmino potrebbe anche cambiare poi io non uso più punti azione va bene per attaccare con il radamante non ne uso per attaccare con lui ho solo questa mossa che fa molto male comunque fa critico fa tanti critici quindi ottimo con il radamante e a fine turno saga mi blocca Isabelle perché è la prima che ha utilizzato un punto azione come vedete non si può non si può giocare così perché mi va a bloccare i miei stessi giocatori se l'avversario non usa skill come in questo caso quindi il funzionamento già è questo non possiamo vedere altre cose perché giusto giusto in questa formazione non hanno i nemici punti azione per far vedere comunque fa tanto danno quindi tirando le somme con saga conviene pullarlo se siete alle prime armi e se soprattutto non fate pvp no perché un personaggio da usare in pvp se fate pvp a livelli alti si dovete pullarlo io stesso non faccio pvp a livelli alti ma lo voglio infatti non spenderò tutte le gemme che ho farò un tentativo di 10 al giorno quindi se lo trovo bene se non lo trovo pazienza ecco qua gemelli io ricordo per chi magari non ha seguito gli altri video che mi metto sul simbolo per scrupolo ma non perché è dorato visto che l'evento di gemini è dorato e quindi mi piace di più come pesca la mansia diciamo ma non ha nessun effetto potete mettervi in qualsiasi punto della mappa che non cambia niente le percentuali sono sempre quelle quindi evochiamo buttiamogli le nostre 10 al giorno non di più perché ne ho poche se ne avessi avute tipo centinaia magari ne avrei fatte 40 al giorno ma 10 ci bastano rullo di tamburi e patate tantissime patate almeno mi prendo gli shard 10 al giorno come ho già detto tantissime volte così mi posso andare a recuperare i bonus dei 10 ecco qua 1 e altre 2 sono 3 quindi praticamente ne ho spese 7 e quindi niente morale della favola questo non ve lo consiglio se siete alle prime armi a meno che non fate tantissimo pvp e comunque anche se fate pvp sono skill che devono essere skillate perché questo personaggio con le skill a livello 1 non funziona bisogna skillarlo quindi tanti tomi blu per il momento questo è l'ultimo personaggio quindi ad oggi uscito che è una novità assoluta ma devono ancora uscire vi ricordo deve uscire shun e andromeda quello andromeda ade non mi viene ora il termine andromeda quando si trasforma in ade quindi sarebbe un'altra versione di ade quindi deve uscire papillon papillon come si dice athena doppia s e deve uscire anche sirio godcloth sono tutti questi personaggi fortissimi in c'è chi più chi meno in pvp se vi interessa saperlo quelli che magari sono più utili tra questi che dovranno uscire se vi interessa saperlo che inizierà accumulare gemme quelli più utili sono shun senza dubbio e athena ss questi due personaggi sono utilizzabili sono fortissimi in pvp e molto utili fortissimi anche nel pve quindi per una persona come me che fa tutte e due questi sono i due personaggi che ambisco di più però io diciamo mi interessa anche la collezione voglio averli tutti e per questo che comunque cerco di cercherò di pullarlo senza spenderci molto evil saga anche perché quando in questo periodo sto trovando troppi personaggi e mi sto un po' confondendo quindi le mie line up per ora sono molto confuse perché ho trovato da poco Ikki e già l'ho potenziato 80 tutto fullato tranne alcune cose diciamo dell'ottavo senso e sto avendo difficoltà a creare dei team perché voglio usare un po' tutti i personaggi e mi sto confondendo perché per niente ho avuto un esubero di personaggi ho liberato Shion qualche giorno fa che mi piaceva tanto e ancora non sono non ho avuto tempo di utilizzarlo ho trovato Yoga God Cloth con l'evento tema precedente quello che ti faceva trovare un S mancante ci sono stati degli ottimi PG non scordate a shardare questo che per il momento si trova Raimi che è un personaggio fortissimo ma deve essere skillato anche lui altrimenti è poco utile questo è l'unico healer che fa anche danno quindi è importantissimo questo PG ma ripeto deve essere skillato si fa per il momento in questi giorni con l'evento quindi se non l'avete fatto fatelo assolutamente ve lo mettete intanto dentro e poi è uscito un altro PG ultimamente questo Niobe che è fighissimo visivamente mi piace un bordello l'effetto dell'armatura incredibile questo PG avvelena e io ancora non ho avuto tempo di studiarmelo per bene neanche di skillarlo ce l'ho a livello 10 quindi avere troppi PG almeno a me porta la confusione perché sul momento non riesco più a creare un team soddisfacente perché ho troppi PG e non so che cavolo farei prima e niente quindi questo video è finito abbiamo parlato un pochettino così di Evil Saga a livello non tanto professionale al mio solito ma così tanto per parlarne e dare qualche indicazione spero utile quindi ci vediamo al prossimo video